Mettersi sul petto la medaglia del sano, buono, pulito e giusto, francamente è insopportabile. L'abbiamo fatto schiavizzando persone che non solo venivano dai paesi del Nord Africa, noi abbiamo riso schiavi i polacchi. L'agricoltura biologica è un interessantissimo esperimento. Significa che noi ci dobbiamo caricare delle emissioni di gas serra, non solo di chi la sta facendo per noi in Argentina, in Brasile o in Nuova Guinea, ma anche del trasporto. I conti delle emissioni di gas serra le dobbiamo fare onestamente e sarebbe meglio che non le facesse il produttore. Visto e considerato che, lo si reputa per certi versi ancora un settore di nicchia, visto e considerato che non siamo certi di mettere nel carrello un qualcosa di realmente biologico, anche quando c'è sopra scritto bio, e che molta gente, noi compresi, diciamo ha molta confusione a riguardo, possiamo dire che il livello di informazione relativo al tema è proporzionalmente inferiore alla sua importanza. Ecco perché noi vogliamo fare chiarezza, ecco perché gli dedichiamo un episodio del nostro podcast. Dopo una prima parte dedicata allo spreco alimentare, ci sembra giusto rimanere nella famiglia del cibo, chiudere questa, diciamo, prima macro parte della nostra stagione con questo argomento che va a completare il ciclo, diciamo così, sull'alimentazione. Perché anche noi abbiamo pochissime certezze a riguardo e vorremmo capire qual è il modo, se ce n'è uno, di avere in tavola un cibo totalmente rispettoso della natura. Da bio, vita, logia, ovvero scienza, discorso, viene dal greco antico chiaramente e definire un prodotto come biologico significa dire che proviene al 100% dalla natura. Se facciamo i fiscali dunque, precisamente un prodotto bio lo abbiamo solo se piantiamo un seme in giardino, cresce un vegetale, lo mettiamo in tavola e lo mangiamo. Punto. Se lo conserviamo in dell'olio, dobbiamo vedere, ad esempio, come è stato fatto quell'olio. Se lo trasportiamo con dei camion o delle navi, allora forse non è più biologico al 100%, osservando realmente l'intero ciclo di vita di un qualcosa. Capiamo bene quindi che, a voler essere precisissimi, quasi nulla, anzi nulla, di ciò che possiamo trovare in commercio lo è. Non lo può essere, non in questo mondo e non al giorno d'oggi. Ma ci sarà una legge che regola la cosa, che definisce cosa lo è e cosa non lo è, attraverso dei criteri attuabili, applicabili alla nostra società. Il regolamento dell'Unione Europea in vigore è il numero 848 del 2018, il quale abroga il precedente del 2007 ed è guidato, tra virgolette, verso l'Italia dal decreto ministeriale 229771 del 20 maggio 2022. C'è tutto, è tutto pubblico e facilmente reperibile. E c'è tutto anche in materia di regolamentazioni. È un mattone di roba, per usare un gergo tecnico, in cui viene regolato e spiegato qualsiasi aspetto. Viene precisato persino come si può, e giustamente anche come si può, e come non si può, pubblicizzare un prodotto bio. C'è qualche punto che è, perlomeno, interpretabile, diciamo. Pagina 57, allegato 2, parte 1, norme di produzione vegetale, paragrafo 1.6. Tutte le tecniche di produzione vegetale evitano o limitano al minimo l'inquinamento dell'ambiente. Beh, questo limitare al minimo è decisamente troppo generico, a mio parere. Pagina 61, allegato 2, parte 2, norme di produzione animale, paragrafo 1.3.2. Per quanto riguarda la riproduzione degli animali biologici, a, la riproduzione avviene con metodi naturali, è ammessa tuttavia l'inseminazione artificiale. Ora, se non lo sapeste, l'inseminazione artificiale non è una cosa bella per l'animale, non è una cosa, è una cosa massacrante per l'animale, insomma, sappiate. Pagina 70, come sopra, paragrafo 1.9.4.4. M, la superficie utilizzabile e complessiva dei ricoveri per pollame destinata all'ingrosso del pollame in ciascuna unità di produzione, non supera i 1.600 metri quadri. N, in un singolo compartimento di un ricovero per pollame non possono esservi più di 3.000 galline ovaiole, vale a dire mezzo metro quadro a gallina circa. Cosa vuol dire biologico, secondo voi? Io personalmente lo interpreto come una produzione di cibo che opera nel pieno rispetto della natura e della vita, nel senso più alto del termine, no? Anche nell'immaginario comune che abbiamo tutti sul biologico, pensiamo alle pubblicità, ci viene in mente cosa ci viene in mente? Gli animali belli, liberi, felici, la natura incontaminata, gli orti ancora pieni di oggiada, che poi arriva la nostra mamma con la vestaglia a raccogliere l'insalata vera e la dà ai suoi figli, insomma, ci siamo capiti, no? Tuttavia, dopo aver letto il regolamento e aver successivamente camminato per due chilometri per smaltire la mente da comma e articoli vari, rimango a essere fatto, sembra tutto perfetto. Mi sembra impossibile poter ingannare un sistema tanto preciso, insomma. Più che altro poi le conseguenze alle quali si va incontro come azienda, nel caso sì, venisse scoperti, sono fatali anche, no? Pensate che addirittura la maggior parte dei procedimenti che vengono fatti sul cibo, della produzione del cibo, devono essere videoregistrati. Ma quindi, dico io, una volta che noi vediamo questo marchio, ok? In una confezione, in una confezione che compriamo, eccetera, il marchio ufficiale del biologico dell'Unione Europea, Possiamo stare tranquilli? Non ti stai facendo la domanda giusta. In che senso? Le regole ci sono da sempre, da sempre c'è chi le rispetta, chi le aggira e chi le infrange. Quindi c'è chi fa il biologico bene, c'è chi fa il biologico male, come in tutte le cose. La domanda che dobbiamo farci tutti è è realmente sostenibile? Per biologico si intende qualsiasi prodotto di origine vegetale o animale ottenuto mediante un processo che prevede la totale assenza di elementi esterni a quelli che la natura mette a disposizione. In particolare, nella produzione di cibo biologico non devono essere utilizzati prodotti chimici di sintesi e organismi geneticamente modificati, quindi OGM. Allora, due domande. Uno, è vera questa affermazione o no? E la seconda domanda è, se anche fosse vera, noi possiamo stare tranquilli dal punto di vista che dovrebbe preoccuparci, ovvero il futuro del pianeta, quando vediamo sulla nostra confezione la fogliolina dell'Unione Europea? Io credo che non c'è nessun tipo di agricoltura e nessuna attività umana, per la quale possiamo stare assolutamente certi che non ci siano danni. Le certezze al 100% sono delle religioni, non sono dati scientifici. L'agricoltura biologica ovviamente non sfugge a tutto questo. Il fatto che non contenga organismi geneticamente modificati è in generale abbastanza vero, ricordando che non c'è una sola ospedalizzazione al mondo per consumo di organismi geneticamente modificati che sono ormai in circolazione da quasi 30 anni. Quindi è un'esclusione che non aumenta di una virgola la sicurezza sanitaria del prodotto che vorremmo ipoteticamente consumare. Tanto per essere chiari, il 12% di tutte le coltivazioni mondiali derivano da organismi geneticamente modificati non si possono coltivare in Italia neanche per scopi di ricerca ma li possiamo importare a decine sono credo 68 i derivati di OGM che importiamo in Europa e in Italia autorizzati anche per il consumo umano. Considerate che l'Italia importa e consuma tutti i giorni 10.000 tonnellate di soia geneticamente modificata 365 giorni l'anno ogni giorno 10.000 tonnellate quindi in pratica non c'è yogurt, carne, latte, salume o quant'altro che non derivi da animali nutriti con OGM e IVI incluso tutti i prodotti più prestigiosi cioè tutti i prodotti di alta gamma e quelli doppi GP sono tutti fatti alimentando con OGM gli animali. Il dottor Roberto De Fezza è uno scienziato, un ricercatore. È il direttore del laboratorio di biotecnologie microbiche presso l'istituto di bioscienze del CNR Autore di svariate pubblicazioni e brevetti fondatore di salmone.org un sito, un portale, un blog, una community che parla di scienza e alimenta il dibattito nella scienza. Abbiamo con noi, e per questo lo ringraziamo moltissimo uno dei massimi esperti in assoluto. Praticamente tutto il cotone che abbiamo deriva da cotone geneticamente modificato perché Cina, India e Stati Uniti per il 95% fanno cotone OGM e noi mettiamo cotone geneticamente modificato a contatto con il circolo sanguigno. Quindi chi ha mai fatto un test allergico sa che ci facciamo un graffietto ci mettiamo una sostanza e vediamo se reagisce ecco tutto il cotone, il cotone idrofilo quello per chirurgia ma anche il vestiario ma anche le banconote le banconote che abbiamo in tasca sono fatte sul trama di cotone ecco, possiamo considerare che lì è tutto geneticamente modificato e conosco poche persone allergiche al denaro ecco, diciamo così questo per la parte OGM per la parte sintesi perché lei giustamente stava distinguendo e dicendo cosa non ci deve essere lì è estremamente opinabile la questione il principale fungicida utilizzato in agricoltura biologica è ossido di rame la cosiddetta poltiglia bordolese ora che mi si dica che la natura ci mette a disposizione ossido di rame mi sembra un po' forzata come affermazione la natura in teoria non ci mette a disposizione proprio nulla la natura non ha mai pensato di farci da supermercato siamo noi che ci andiamo a prendere prodotti dalla natura e li usiamo per quello che ci può servire che poi purifichiamo il principio attivo questa sarebbe la chimica oppure lo prendiamo tal quale così com'è da qualche parte francamente a me sembra poco rilevante tanto per essere chiari un'aspirina è fatta di acido acido acetilsalicilico la differenza è se vogliamo solo l'acido acetilsalicilico o ci vogliamo prendere la corteccia di un salice in cui tra le tante cose fastidiose c'è anche un po' di acido acetilsalicilico che viene proprio dal salice quindi come dire capisco il principio capisco la ragione per la quale nasce l'esigenza di ridurre l'impatto della chimica in agricoltura concordo sul fatto che ci sono stati enormi eccessi di impiego di prodotti chimici in passato quindi una spinta alla riduzione di eccessivi dosaggi andava fatta perché negli anni 70 e 80 ne abbiamo usati troppo e troppo male e chi ci è andato di sotto di mezzo sono stati soprattutto gli agricoltori che le spargevano da allora adesso anche grazie all'istituzione dei principi di agricoltura biologica si sono fatti passi in avanti giganteschi sono state eliminate decine di migliaia di prodotti chimici ma soprattutto c'è un prefiltro prima che il prodotto arrivi sul banco del supermercato sono le stesse aziende che raccolgono i prodotti agricoli che fanno analisi e le fanno per davvero seriamente le fanno davvero seriamente perché se ci arrivasse un alimento immaginate una pasta inquinata sarebbe l'intera azienda produttrice che avrebbe un danno commerciale monumentale quindi la pressione a che i prodotti rispettino certe normative è enorme e questo ha innescato una serie di aspetti virtuosi da parte proprio delle aziende produttrici che hanno ridotto sia l'utilizzo ma soprattutto la presenza come residui perché in fondo è questo quello che ci potrebbe arrivare tanto per dirne una 15 anni fa potevo andare da un qualunque consorzio agrario a prendere qualunque tipo di prodotto chimico adesso per utilizzare i prodotti chimici in agricoltura serve un patentino quindi sono trattati come dei farmaci con prescrizione medica c'è un'evoluzione per cui far finta che nulla è successo negli ultimi 40 anni è veramente un modo più per autopromuovere la propria immagine che non per garantire il consumatore l'ultima notazione vorrei che tutti riflettessero sul fatto che a mia conoscenza non c'è nessun prodotto da agricoltura biologica noto perché è da agricoltura biologica cioè in realtà sto dicendo parmigiano reggiano, grana padano, costruito di parma, san daniele sono tutti non biologici si vendono perché sono buoni io sono un grande consumatore di tutte queste cose ma non c'è l'analogo che è particolarmente come dire apprezzato e prestigioso perché è biologico in realtà diventa una specie di marchio per promuovere il prodotto e per ispirarlo a una certa logica a una certa filosofia di vita ho visto che effettivamente ci sono regole super ferre sono veramente grandissimi i controlli che vengono fatti appunto nei confronti del cibo biologico però appunto quello che dico io è sotto il punto di vista della sostenibilità ambientale è il biologico il futuro? nel senso la gente secondo me onestamente io lo dico compra il cibo biologico perché vede il marchietto e dice vede la scritta bio e dice faccio del bene al pianeta in realtà secondo lei questo è vero o non è vero? adesso le dico una serie di cose però prima di dirglielo le dico che il primo articolo che io pubblico su queste vicende è del gennaio del 2001 sul Corriere della Sera da allora io ho fatto sette audizioni parlamentari due audizioni in consigli regionali diciamo non tutte le volte perché non tutte le volte era questo l'argomento ma diverse volte io lascio dei documenti scritti in audizione io continuo a insistere su un concetto che spero resti chiaro e limpido allora in agricoltura biologica non si possono usare prodotti di sintesi cioè fertilizzanti di sintesi in questo caso cosa che ha alcuni aspetti più che ragionevoli nel senso che un uso eccessivo di alcuni fertilizzanti di sintesi deriva dall'utilizzo di derivati di idrocarburi quindi di sostanze fossili non rinnovabili e questo è un grande problema ma se io dovessi fare il bilancio di quello che io considero di gran lunga il primo problema che abbiamo di fronte ossia l'emissione di gas a effetto serra non ho nessun dubbio che questo è il più grave problema che abbiamo di fronte francamente utilizzerei i fertilizzanti di sintesi perché che cosa viene usato in agricoltura biologica per non usare i fertilizzanti di sintesi che ripeto hanno un forte impatto sia con emissioni di CO2 sia con emissioni di ossidi di azoto che sono altrettanto complesse usano o letami ma soprattutto usano farine animali allora farine animali significa che tutto quello che viene scartato agli animali pelle, organi interni sangue, zoccoli, corna e tutto quello che non viene utilizzato viene asciugato ridotto in farina triturato e utilizzato come fertilizzante in agricoltura biologica allora qual è l'emissione di tutto questo? diciamo in parte deriva da bovini che è di gran lunga la sorgente peggiore quindi se dovete prendere una fettina di carne cercate di prenderla di pollo e non di bovino sotto ma molto più meno inquinante è un maiale molto meno capra e pollo se però partiamo veramente da una vacca allora bisogna alimentare la vacca e come ho appena finito di dire la gran parte della dieta di una vacca è farina di soia geneticamente modificata ne mangia fino a 3 kg al giorno più 11 kg di mais e mais è per un quarto geneticamente modificata nel commercio mondiale quindi bisogna alimentarla per tutti i mesi dopodiché vengono fatte le ossa vengono fatte le corna tutto questo scarto finisce un termovalorizzatore se vogliamo dopo però che abbiamo fatto le due principali emissioni di gas serra ossia la fermentazione enterica e le emissioni di gas serra dall'etame a quel punto abbiamo prodotto in realtà proteine perché quello che manca nella fertilizzazione è azoto le proteine tutte le proteine di qualunque organismo sono fatte da amminoacidi gli amminoacidi sono tutti gli stessi dal virus del covid dalla balena sono sempre gli stessi 20 amminoacidi più o meno gli amminoacidi lo dice la parola stessa sono amminoacidi la parte ammino vuol dire azoto c'è un atomo di azoto quindi la ragione di prendere le farine animali e per dare azoto sostanzialmente alle piante allora c'è la nutrizione della vacca l'emissione dei batteri enterici l'emissione di gas serra dai letami e queste cose la FAO la FAO in un articolo scientifico di due mesi fa le elenca come maggior emettitori di gas serra più dei fertilizzanti sintetici sono il maggior emettitore di gas serra in scala mondiale proprio esattamente ok quindi diciamo noi non stiamo scegliendo fra il bene e il male questo vorrei che fosse chiaro stiamo scegliendo tra due danni tra due mali tra due cose che non vanno bene ma stiamo cercando di capire chi fa più o meno danni potenzialmente non vorremmo nessuna delle due certo se posso schierarmi non sono favorevole all'uno all'altra io lavoro contro entrambi il mio diciamo attività di ricerca è contro sia l'uno che l'altro ma come dire mettersi sul petto la medaglia del sano buono pulito e giusto francamente è insopportabile agricoltura biologica è un interessantissimo esperimento nel senso che è una sfida una sfida a tentare di produrre altrettanto con meno input quindi io lo considero una grande provocazione interesse scientifica non da abrogare semplicemente da valutare nel merito con tutte le sue componenti qual è il problema ulteriore che ci vedo è il fatto che si riduce la produzione per ettaro del 20 30 40% in alcuni casi quando si riduce la produzione per ettaro si aumentano le importazioni allora detto in termini secchi articolo di Nature l'Europa ha aumentato di circa 12 milioni di ettari la sua parco di boschi e di foreste mentre il resto del mondo soprattutto Sud America e Africa hanno aumentato di 12 milioni di ettari il disboscamento allora noi siamo gli utilizzatori finali del fatto che abbiamo come dire ci ammantiamo della bellezza di utilizzare alcune tecnologie che riducono le nostre produzioni e quindi andiamo a chiedere ai paesi in via di sviluppo di produrre per noi ecco tutto questo balance o ci assumiamo come paese sviluppato tutto l'onere e se io produco diciamo lasciamo perdere se vogliamo non vogliamo prodotti di origine animali ma comunque c'è bisogno di produrre per mangiare se noi abbassiamo le rese per ettaro significa che noi ci dobbiamo caricare delle emissioni di gas serra non solo di chi la sta facendo per noi in Argentina in Brasile o in Nuova Guinea ma anche del trasporto assolutamente noi i conti delle emissioni di gas serra le dobbiamo fare onestamente e sarebbe meglio che non le facesse il produttore che ci vorrebbe un ente terzo che fa le misure che dice ok tu vuoi questo costa tanto e poi per la maggior parte è soia e quindi per la maggior parte è cibo animale allora l'abbiamo visto col grano il grano che ci viene dall'Ucraina e ci ha messo in enorme difficoltà l'olio di girasole che è sempre ucraino e siamo andati in carenza chi va a fare la spesa al supermercato ha visto che improvvisamente l'olio di girasole che era un olio estremamente economico a poco più di un euro al litro adesso costa quanto e più dell'olio di mais ma quello è guerra in Ucraina certo e va tutto così quando si è bloccata il canale di Suez perché quella nave gigantesca porta container si è arenata per sei giorni noi siamo andati in panico perché ci stavano arrivando dalla Cina e dal Vietnam 70.000 tonnellate di conserva di pomodoro allora questa cosa che tutto è bello perché è fatto in Italia come dire è bello per chi lo vende ma non sta in piedi da nessuna parte l'Europa ha scelto di coltivare poco di produrre meno di importare tantissimo e questa cosa noi ce la dobbiamo raccontare per come dire per per quello che non va bene in questa vicenda perché quando il prezzo del grano come è successo ormai tre volte negli ultimi 15 anni aumenta di due qualche volta tre volte è successo quando ci è stata la crisi dei mutui subprime il grano sono aumentati due volte mezzo tre poi il risuccesso nel 2011 2012 sono scoppiate le primavere arabe su quella su quell'aumento dei prezzi adesso sta succedendo per l'ucraina quando succede una cosa del genere a noi la pasta o la farina ci aumentano di 5 10 centesimi ma nemmeno qualche volta non aumentano neanche di una lira perché è un prezzo irrisorio quello della materia prima ma noi stiamo andando a comprare a due tre volte il prezzo riso e grano in posti dove quello è l'alimento base e chi lo produce localmente preferisce venderlo a noi che darlo come dire al prezzo normale alla popolazione locale quando ci sono state le proteste di piazza per le primavere arabe ci sono stati 29 paesi al mondo che hanno fatto scioperi e blocchi delle esportazioni perché non gli arriva più il cibo a loro cioè noi siamo gli attori forti e ricchi in uno scenario in cui per noi i centesimi non esistono più i due centesimi li buttiamo via i cinque centesimi non sappiamo cosa siano ormai ma per loro sono come dire pane quotidiano noi giochiamo questa partita da ricconi anche se ci consideriamo come dire l'ultima ruota del carro andando un po' anche a pensare umanamente a tutte queste cose io questo ragionamento che volevo condividere con lei ovvero ieri ci pensavo giusto parlando proprio di sbagliata importanza che diamo al cibo secondo me noi pensavo che io spendo 30 euro al mese in frutta ormai e io spendo anche mi piace la formula 1 e la moto gp spendo 30 euro al mese anche in sky e pensavo che a me mi viene naturale pensare che costa tanto la frutta non che costa tanto sky però è sbagliato forse secondo lei allora noi dobbiamo accettare l'idea che frutta a bassissimo costo significa finire per doverla importare dall'estero perché la nostra manodopera costa cifre inaudite rispetto a quella che possiamo ottenere far arrivare da molto lontano i prezzi della raccolta di molta frutta ma molta verdura dalle clementine ai pomodori noi e sto parlando del sud Italia l'abbiamo fatto schiavizzando persone che non solo venivano dai paesi del nord Africa noi abbiamo riso schiavi i polacchi noi li abbiamo pagati 2-3 euro al giorno per lavorare 11-12 ore l'agricoltura purtroppo continua a vivere di carenza di controlli e di scarsa meccanizzazione soprattutto nel sud Italia per fortuna nel nord Italia la situazione è già molto migliore ma non meccanizzare significa avere la necessità di lavoro nero e di lavoro diciamo di caporalato ogni tanto ci facciamo finta che ce lo ricordiamo che ce ne accorgiamo che il lavoro di agricoltura è un lavoro da imprenditori non è un lavoro da contadini se vogliamo arrivare a vendere alla grande distribuzione la grande distribuzione vuole prodotti standardizzati che arrivano sicuri che arrivano con quei tempi con quelle modalità non possono avere roba che marcisce negli scaffali e questo impedisce di avere tanta parte di agricoltura lasciata come dire come natura la crea ecco come natura la crea non funzionerà mai per la grande distribuzione perché devono passare in continuazione a vedere cos'è che sta marcendo un qualunque attacco di un qualunque parassita innesca un processo per cui l'intera cassetta poi diventa un problema noi siamo abituati a avere prodotti di altissima qualità devono essere belli lucenti colorati attraenti immacolati ed economici immacolati e protetto da tutte le aggressioni esterne significa protetto non solo dai parassiti con gli insetticidi e guardate che ci sono insetticidi biologici che funzionano una meraviglia anche contro le api vietati del loro utilizzo perché sono insetticidi un insetticida ammazza gli insetti non è che fa rose e fiore allora che si chiama di sintesi o non di sintesi francamente mi importa relativamente cioè se io leggo scritto che su un certo insetticida autorizzato in agricoltura biologica si può spargere 5 metri da un corso d'acqua se i piselli sono alti 40 centimetri ma se sono alti un metro bisogna essere a 10 metri da un corso d'acqua e se sono come quelli che sto coltivando io in questo istante a un metro e mezzo bisogna essere a oltre 15 metri dal corso d'acqua perché è un insetticida che è dannoso per qualunque ambiente acquatico ecco questi sono i vantaggi pubblicitari che sconta una certo tipo di agricoltura tra l'altro ripeto mentre l'agricoltura biologica ha una serie di punti di interesse di sfide anche culturali anche scientifiche i tentativi di arrivare a fare quella stessa cosa in un modo come dire meno impattante evitando di utilizzare troppe cose gli OGM nascono per questo perché noi passiamo sui campi con gli insetticidi che ammazzano non solo il parassita del mais ma anche le farfalle le formiche le coccinelle ma se ammazzano le coccinelle ammazzano il principale predatore degli afidi quindi dopo che se spassate sul campo di mais a spargere l'insetticide avete ammazzato le coccinelle quella pianta si diventa nera per gli afidi che non hanno più un competitore la raffinatezza di dire io voglio un insetticida personalizzato serve anche a quello serve a tentare di arrivare in una certa direzione purtroppo l'organizzazione dell'agricoltura biologica italiana ha cambiato nome e si chiama l'organizzazione dell'agricoltura biologica e biodinamica allora biodinamica significa prendere l'intera ricerca scientifica come l'ha pensata Galileo Galileo e metterla in un cestino non perché lo dicono loro si è vero cose che non possono essere capite da biologi fisici e chimici cioè è altro dalla ricerca scientifica benissimo fate mi sono andato a documentare un pochettino mi sono veramente un attimo ho rapprevidito perché nel linguaggio comune biodinamico è qualcosa che volendo assomiglia al biologico no ma in realtà proprio non c'entra e la gente non lo sa sempre audizione tanto per non mandarla a dire audizione di giugno del 2019 vengo intervistato su agricoltura biologica e biodinamica sull'agricoltura biologica gli metto gli elenco dei 302 derivati di farine animali da epitelio animale idrolizzato che sono disponibili in Italia 302 tipi di fertilizzanti a base di idrolizzato di epitelio animale e gli metto anche per la parte di agricoltura biodinamica quello che loro descrivono come i preparati ossia uno di questi sono vesciche urinarie di cervo maschio riempite di fiori di achillea ecco io che sono certo che non li usa più nessuno perché nessuno si metterebbe a fare un'operazione del genere però se loro non dichiarano e non dicono guardate che quello che ha detto quel signore che se l'ha inventata sono bagianate sono follie non hanno nessun livello di ragionevolezza ma sono una religione mascherata io devo continuare a raccontare che le vesciche urinarie di cervo maschio servono per queste cose non so come fare non è colpa mia non so se ha mai visto che cosa fanno con i dissuasori no mi so ho visto qualcosa con la pelle del topo e vabbè però dopo di che smetti anche di guardare io smetto di bere anche un vino biodinamico però oltre che smetto di guardare certo 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 assolutamente appunto visto che ha nominato il vino parliamo dell'articolo grifosato il vino che fa riflettere appunto anche su queste convenzioni che le persone possono avere io tiro fuori quell'articolo perché si era innescata questa feroce polemica sul vino buono non buono cattivo non cattivo cancerogeno o meno ora stiamo toccando un mito della cultura del piacere ecco io bevo vino tutto allora intanto perché parlare del vino da un certo punto di vista il vino non ha solo alcol per fortuna perché sarebbe trasparente e poco gradevole il vino ha centinaia di altre cose tra cui alcune che aiutano il sistema cardiocircolatorio quindi nel vino ci sono varie componenti alcune estremamente positive e virtuose altre meno in particolare l'alcol l'alcol è l'alcol punto che stia nel whisky irlandese perché poi quella storia nasce in Irlanda o nel gin o nel limoncello è sempre alcol nel vino ce n'è di meno ed è più gradevole ne beviamo di più però alla fine quello è l'alcol non ci fa benissimo dovremmo moderare e modulare capendo che non è che è proprio acqua fresca come se stessimo bevendo qualunque cosa e con certi limiti diventa un rischio accettabile qui entra in gioco questa mitologica distinzione che in italiano non abbiamo tra rischio e pericolo allora alle mie spalle vedete il Vesuvio io parlo da pochi chilometri di distanza il Vesuvio è un pericolo perché sto qua perché è il pericolo di un'eruzione di un terremoto quello che sia moltiplicato per la frequenza la solidità dell'edificio dove mi trovo il rischio tiene in considerazione decine di altri parametri ma se io mi baso solo sul pericolo io non potrei stare qua certo e non so da dove mi parla lei ma lei non potrebbe stare lì dove si trova quando 39.000 anni fa le due caldere del Vesuvio e dei campi Flegrei si sono fuse le cennere sono arrivate a Mosca quindi parliamo di nulla il Lazio è coperto a 30 metri di polveri di tufo che derivano da quella eruzione di che stiamo parlando? se noi consideriamo il pericolo esiste una possibilità teorica che le due caldere si fondano una seconda volta e diano eruzioni di questo genere ma allora se parliamo di pericolo non potremmo vivere sostanzialmente ora quindi io ponevo in paragone due storie la difesa accorata e spassionata dell'utilizzo dell'alcol nel vino come se fosse un'aggressione alla natura umana paragonato al fatto che la stessa agenzia delle Nazioni Unite che si occupa della ricerca sul cancro avesse messo nella categoria meno pericolosa inferiore a quella dell'alcol nel vino il glifosato che è un erbicida e quindi noi difendiamo a spada tratta il fatto che ci beviamo come me un bicchiere di vino rosso al giorno e quella non si può toccare invece ci preoccupiamo di qualcosa che ha circa un milione di volte di concentrazione minore che non si sa se vediamo una volta ogni tanto forse ne vediamo qualche traccia in qualche tipo di pasta ricordandoci sempre che la pasta io almeno la cucino la metto nell'acqua la faccio bollire il glifosato è l'analogo sempre di un amminoacido ma di uno specifico della glicina quando va nell'acqua bollente si rompe quindi quel milionesimo in meno di dosaggio fra l'altro nell'acqua un po' si diluisce un po' si rompe e scompare ecco questa paranoia il punto che a me interessava evidenziare cioè questo atteggiamento di trattare il consumatore il lettore il telespettatore sempre come uno stupido come uno a cui non si possono dire le cose che non deve sapere che non ha cultura per capire che cosa sta succedendo realmente e non gli si può parlare di amminoacido quando li prendiamo come integratori gli integratori spesso hanno amminoacido sono raccontati lì dentro ecco noi li prendiamo bene meglio non eccedere con gli integratori se posso dire ma li prendiamo lì dentro ecco perché non usare questa cultura che ci arriva da qualcosa che noi consideriamo benefica e tradurla in tutti i pezzi perché il glifosato è l'analogo di un amminoacido della glicina ma anche la storia delle proteine con le farine animali sempre deriva la stessa vicenda ecco io penso che quando leggo un articolo in inglese del New York Times non tratta i lettori nello stesso modo in cui noi sui giornali in televisione trattiamo i telespettatori o i lettori li tratta persone evoluti quando parla il DNA ne parla come si parla gente a cui il DNA è stato raccontato da 20 anni da 30 anni molto spesso la ricerca scientifica l'ha fatto tante volte va troppo veloce per quanto il pubblico possa accettarlo secondo me la vicenda degli OGM è soprattutto questo è una distanza tra il percepito della ricerca e un percepito del pubblico noi con questa cosa non possiamo non farci conti perché è troppo facile dire l'abbiamo capito noi e quindi va tutto bene no l'abbiamo capito noi adesso ci fermiamo e vediamo di parlarne ma non parlarne dalla cattedra a parlarne dallo stesso banco uno a fianco all'altro è un po' come se fosse una grandissima mancanza di informazione io ho sempre pensato che l'Italia è un paese con una grandissima cultura per il cibo sicuramente è vero però magari è più sul cucinarlo il cibo che non effettivamente su un'apertura mentale e su un occhio critico verso quello che è il cibo verso quello che può essere il futuro prima anch'io ero uno di quelli che no si fa come si faceva una volta è giusto così perché si è sempre fatto così ma secondo lei deve partire il cambiamento tra virgolette cioè la mancanza di informazione ovviamente non si può dare una colpa sola ma è colpa dei consumatori quindi dei cittadini o è colpa degli enti dei governi in sostanza oppure dei produttori allora io ci ho scritto un libro più o meno su questa vicenda che si chiama Scoperta e in quel libro io me la prendo con gli scienziati forse sono quelli che hanno meno colpa ma io me la posso prendere solo con gli scienziati per prima cosa perché non hanno interessi economici hanno sì interessi di carriera hanno grandissimi interessi a finanziare come io interesse a finanziare il mio laboratorio per poter fare esperimenti ma accuso gli scienziati di non avere voglia di vedere il problema di non organizzarsi di non dedicare abbastanza tempo a comunicare col pubblico pubblico non può essere imputato di avere una colpa secondo me perché riceve messaggi pubblicitari di organizzazioni che hanno grandissimi interessi economici grandissimi interessi economici tanto per ritornare alla vicenda glifosato così diamo due numeri un litro di glifosato costa 7-8 euro al litro per diservare un ettaro vietando il glifosato noi non è che lo smettiamo di usare continuiamo a usarlo e ne usiamo 6 erbicidi per 200 euro l'ettaro e quando verrà sostituito perché prima o poi succederà il glifosato verrà sostituito con una molecola che al contrario del glifosato che è fuori brevetto da 21 anni sarà una molecola tutelata di cui bisogna usarne di più più volte e costerà molto di più sta dicendo che il glifosato costa troppo poco sostanza costa troppo poco e funziona troppo bene il suo sostituto potenziale lascia viva l'erbaccia il suo sostituto brucia le foglie ma come dire la parte radicale resta intatta ecco noi siamo spinti verso maggiore efficienza maggior costi maggior rapidità ma non sempre funziona bene il glifosato purtroppo ormai è vecchio diciamoci la verità stanno emergendo erbacce resistenti al glifosato quindi piano piano verrà superato dai fatti dalla mancata capacità di diserbare per bene i campi ma è un farmaco da banco e noi stiamo sostituendo un farmaco da banco con uno a marchio e non va bene allora io dico gli scienziati dovrebbero esporsi di più rischiare di più dire più spesso la loro organizzarsi coordinarsi intervenire io tanto per non mandarla a dire perché diciamo tanto di nemici ormai ho le collezioni lei chiede del glifosato e gli OGM quanti documenti dell'Accademia dei Lincei ha letto su questo tema perché l'Accademia dei Lincei non tira fuori due volte alla settimana un documento su tutte le emergenze che abbiamo sanitarie e scientifiche in questo paese sono gli scienziati che dovrebbero come dire diventare attori del dibattito pubblico autorevoli e come dire trasparenti in queste iniziative mi rendo conto che è difficilissimo mi rendo conto che non è il mestiere per il quale siamo pagati perché la verità è questa ma da un altro punto di vista il mio stipendio lo pagano i cittadini io non posso non posso occuparmi di come dire promuovere l'agricoltura biologica che dà da mangiare al 3% della popolazione gettando il discredito sul 97% che è quello che mangiamo normalmente cioè prodotti di agricoltura tradizionale io devo lavorare per il 97% non per il 3% più ricco della popolazione sono loro che mi pagano stipendio io ho quella parte come interlocutore io devo garantire che quella parte sia sicura per l'alimentazione della popolazione volevo chiudere con due domande così anche magari veloce anche perché forse la prima non credo potrà rispondere non lo so però la domanda è semplice sono i governi che hanno potere sulla GDO sulla grande distribuzione o è il contrario secondo lei io penso che alla grande distribuzione avere avere il controllo di fin troppe cose le dicevo gli ogeme sono vietati per la coltivazione ma non per l'importazione ma nessun supermercato li vende non li vendono per ragioni di pubblicità non per ragioni sanitarie la grande distribuzione è estremamente efficiente deve badare i prezzi ha problemati di questo genere e si controlla i suoi prodotti si controlla i suoi prodotti perché lo scandalo che avviene sì per una marca ma all'interno di un loro supermercato non vogliono che succeda i governi stanno seguendo stanno più che altro seguendo i trend di mercato non riescono a indirizzarli e a guidarli ora ricordiamoci che non ci sono non c'è nessun grande marca di distribuzione del cibo tra i primi dieci player al mondo scusi non c'è nessun italiano tra i primi dieci al mondo è tutta grande distribuzione internazionale di altri stati che arriva anche in Italia perché noi siamo troppo piccoli se vuole l'esempio per OGM o glifosato che più o meno fanno riferimento alla mitologica Monsanto che ormai non c'è più fatturava quando esisteva nel mondo parecchio meno diciamo un 20% in meno di quanto Coop fattura da sola in Italia e la partita l'ha vinta Coop non l'ha vinta Monsanto l'ha vinta Coop dicendo peste e corna degli OGM è la grande distribuzione che decide cosa possiamo mangiare perché ha come dire un'organizzazione una strutturazione perché raccoglie prodotti in tutto il mondo perché cerca di farci arrivare a prezzi risori perché ci facilita la vita questo è un po' triste ovviamente però noi diciamo nel nostro piccolo anche con video podcast di questo tipo proviamo non a dare una soluzione magari ma a far scattare qualcosa o qualche pensiero critico che non guasta l'ultima domanda che voglio farle è il biologico dall'etimologia della parola bio vita logico discorso scienza senso significato secondo lei proprio non le chiedo qualcosa di scientifico cosa pensa che sia il biologico il cibo biologico effettivamente un buon modo di tentare di coltivare cercando di ridurre al minimo gli interventi umani un esperimento interessante ripeto da cui non ci dobbiamo aspettare le soluzioni del pianeta ma una una sfida attraente una sfida attraente certamente il punto del biologico è che deve riuscire a uscire dai finanziamenti e dalle sovvenzioni perché senza sovvenzioni non starebbe in piedi la sfida che deve perseguire è di essere logico è troppo bio e poco logico un prodotto a rilascio lento è meglio sto parlando proprio dell'ossido di rame della poltiglia bordolese è meglio che dare tre volte poltiglia bordolese meglio avere quel rame in dosaggi minori ma che viene come dire rilasciato nel tempo piuttosto che pensare che non posso avere sostanze che fanno un rilascio lento della componente ecco un po' meno ideologia io capisco che all'inizio hanno dovuto come dire porre una barriera proprio noi e loro ora forse un'età di maturità in cui scelgono alcune cose non alcune cose su una base come dire sperimentale e la giustificano perché questo sì e quello no io credo che potrebbe essere un modo per aumentare l'efficienza e ridurre gli inquinamenti perché tanta poltiglia bordolese tanto rame nei terreni ammazza i batteri ammazza la flora microbica rende steri i terreni brucia tutto non ci fa bene ora un vitigno che sta lì da un secolo e che prende 6 7 8 trattamenti l'anno con rame diciamo non è un bel posto ormai il rame non se ne vado con un secolo allora un po' più di come dire di uscita da un fideismo potrebbe essere una buona cosa senza finire come finisco io che non faccio nulla sul mio orto e i bruchi della cavolaria si stanno mangiando verze e cavoli allegramente ecco non finite come finisco io però insomma qualcosa per fermare la cavolaria serve perché quella pianta se non un produce se non un produce è un po' più che c'è un po' più che c'è il contatto l'amore è un po' più merda